Gli italiani si stanno godendo gli ultimi scorci di estate. L'inizio della settimana è all'insegna del bel tempo e del caldo. Ma la domanda più gettonata è, quanto durerà e quando tornerà il maltempo? Secondo le previsioni della settimana tutto è pronto a cambiare. Il ribaltone meteo è ormai alle porte, il caldo è, ormai, agli sgoccioli. In agguato sull'Italia, infatti, vi è una nuova perturbazione che è destinata a portare piogge e temporali. Arriverà a partire da mercoledì prossimo con conseguente calo delle temperature su tutta la penisola. Secondo quanto riferito da Trebbi Meteo, l'evoluzione delle prossime 24-48 ore non ha bisogno di essere ulteriormente approfondita. Sappiamo che il sole splenderà in contrastato su tutta l'Italia e che farà caldo ovunque con la complicazione anche di un aumento dell'AFA. Grazie a tutti.